Quasi 20 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. La Campania, con il 75,2% delle 67.020 dosi di vaccino consegnate ad oggi, è la regione italiana che svetta per velocità. Seconda, la Toscana, con il 71,2%, ma con solo 52.000 dosi assegnate. Terzo, il Lazio, che ha già somministrato il 64% delle 87.000 dosi ricevute. Fanalini di coda sono la provincia autonoma di Bolzano, con il 30%, e la Lombardia, con il 30,1%. Solo 46.000 le dosi somministrate su 153.720 consegnate, il quantitativo più rilevante in assoluto. Le donne sono state quelle che al momento si sono vaccinate di più, il 61,86%. La fascia di età invece che prevale nelle vaccinazioni è quella fra i 50 e i 59 anni. Sono stati il 28,51% del totale. Nello specifico, tornando alla Campania, le vaccinazioni hanno interessato per l'83,5% le categorie sociosanitarie, per il 14,8% personale non sanitario e per il restante 1,7% gli ospiti delle residenze assistite. Un'incanota stonata quest'ultimo, se proprio si vuole trovare un pelo nell'uovo, se si confrontano i dati a livello nazionale, dove la media per gli anziani ospiti delle strutture vaccinate è del 6,2%. Detto questo, sono i numeri a sancire un successo, senza ombra di dubbio, della Campania, sul fronte delle vaccinazioni. Successo che è da scrivere alla organizzazione quasi militare dei 27 punti di somministrazione realizzati, ma soprattutto al lavoro, che a volte rasente il sacrificio, di centinaia di persone, che già a partire dal 27 dicembre hanno dimostrato capacità e spirito di abnegazione. Per martedì prossimo si dovrebbero comunque ultimare le 13.000 dosi di vaccino restanti e ricordando che tutte dovranno essere ripetute dopo tre settimane, diventa ancora di più impellente a questo punto ottenere altre scorte per poter continuare nell'azione di provenzione dall'alto e allo stesso tempo prepararsi alla somministrazione della seconda dose, che dovrebbe iniziare al massimo fra due settimane.